Il sindaco di Aiello del sabato, Sebastiano Gaeta, in qualità di tutore speciale dei ragazzi allontanati da casa dopo l'arresto della madre, ha chiesto la ripresa degli studi per quattro di loro. Al momento collocati in una struttura protetta vi sono sei figli della famiglia di Aiello, finita sotto accusa per lesioni, sequestro di persona e maltrattamenti nei confronti della figlia 21enne. Le indagini sono ancora in corso, ci sono molti aspetti ancora da chiarire e al vaio dei carabinieri ci sono le dichiarazioni delle due ragazze, supportate naturalmente dagli elementi raccolti nell'abitazione il giorno in cui hanno fatto irruzione, sequestrando le catene con le quali veniva legata la donna. Fondamentali saranno anche le dichiarazioni della donna, la madre carceriera, che ieri non è riuscita a sottoporsi all'interrogatorio di garanzia per le sue precarie condizioni di salute. È chiaro che è una famiglia distrutta, ha detto l'avvocato della donna, Francesco Buonaiuto, sia per quanto riguarda i bambini, ma penso che tutto il resto del nucleo familiare abbia subito delle ripercussioni pesanti in questa vicenda. Ora la magistratura farà il suo corso, verificherà con attenzione anche il pregresso e tutto ciò che riterrà opportuno, ovviamente noi seguiremo il processo fino in fondo. Intanto il sindaco chiede il ritorno a scuola per due ragazzi che frequentano le superiori e per gli altri due che frequentano invece le medie. Naturalmente Gaeta, almeno per il momento, chiede un ritorno in modalità DAD dalla struttura protetta in cui sono stati collocati.